genuani si resta il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a genova ma che sono comunque rimasti genuani genuani si resta perché questo titolo si dibatte spesso sul genuani si nasce genuani si diventa eccetera eccetera e questo dilemma vale per tutte le tifoserie beh questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano è ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri della sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno ogni weekend ogni volta che la sua squadra gioca a qualsiasi ora del giorno e allora genuani si nasce si diventa ma soprattutto si resta saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar prima o dopo una partita del nostro grifone a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno ha solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo sarà solo un bar lontano migliaia di chilometri come diceva annunzio quilogamo cari amici vicini non siamo allenatori né direttori sportivi né giornalisti e tantomeno ex calciatori al limite ex mediocri pallonari ma siamo tifosi quello sì e spesso nemmeno troppo obiettivi beh non aspettatevi troppo obiettività in questo podcast faremo del nostro meglio ma non garantiamo nulla un buon fine settimana e un bentornate a tutti gli ascoltatori di genuani si resta diciottesimo episodio ne veniamo da una settimana difficilissima e però siamo qua siamo qua e siamo qua con matteo che saluto da new york ciao matte ciao stefano si settimana non proprio delle migliori però siamo ancora vivi dai assolutamente sì francesco dovrebbe raggiungerci a breve sarà una un episodio un po flessibile con gente che va e gente che viene d'altronde sapete c'è la partita fra un po quindi francesco poi andrà insieme agli amici del genuaclub iemi a vederla tutti insieme in un pub di miami e dicevamo settimana difficile e per chi si fosse aspettato che i genuani mollassimo mollassero e o lasciassero assolutamente no siamo qua e non solo come diceva il titolo della trasmissione non lasciamo ma raddoppiamo perché questa settimana a differenza delle altri episodi invece di avere un solo ospite ne avremo due nel frattempo si è collegato francesco da maiemi ciao fra ciao ragazzi buongiorno eccolo che maglietta dai francesco ah bellissima maglietta gialla e del levante e sponsor levante del genuaclub allora andiamo a presentare i nostri ospiti come detto sono due restiamo in europa e siamo in spagna o per la precisione in catalunia se no qualcuno si offende a barcellona partiamo da alessandro e 28 anni nato a genova per la precisione a recco si trasferisce sei anni fa a barcellona per amicizia dice e un genuano dalla nascita con genuanità trasmessa da amici prima partita del genuo allo stadio un genuo a palermo 1 a 1 2002 2003 si definisce un genuano ironico e giocatori preferiti di tutti i tempi cita diego perotti e mauro zecca che poi ci racconterà chi sia perché io francamente non lo conosco e giocatore in assoluto di tutti i tempi garrincia ha giocato a calcio ma con conseguenze disastrose dice e ci quindi ci racconterà altre squadre per quali fa il tifo o simpatizza il raio vai a cano hobby e passioni viaggiare musica lettura e nuoto la sua più grande gioia vissuta da genuano il 3 a 2 di yuray kuczka contro l'inter nel 2015 la più grande delusione retrocedere la sera del suo compleanno il 16 maggio il gol più bello che ricorda è quello di pandev in genua lecce da 40 metri e questo è quindi alessandro lorenzotti da barcellona ciao a lei ciao ragazzi ciao ste ciao matt e ciao fra grazie per l'invito e grazie a te e grazie di averci portato un tuo amico che vado a presentare 33 anni ovviamente anche lui vive a barcellona però lui è nato in argentina a san nicolas de los arroyos arroyos non lo so ce lo dirà lui e dicevamo 33 anni genuano ovviamente non dalla nascita ma da piccolo e questo quindi è già una una bella storia che ti ha trasmesso la genuanità il boca juniors di cui è tifoso prima partita del genuo allo stadio genua empoli 1 a 1 del 2019 si definisce un genuano allegro beato lui è giocatore preferito di tutti i tempi rodrigo palacio e in assoluto eh iniesta ha giocato a calcio da piccolo stifa per altre squadre ovviamente boca juniors e eh siviglia e ovvie passioni giocare a basket e phaser twitch eh scusate ma io sono vecchio e la più grande gioia vissuta da genuano vincere e con la sample con il gol di boselli la più grande delusione delusione vissuta da genuano chiaramente il momento attuale il più bel gol eh cita il gol di crescito con la lazio quindi sempre da barcellona e steban teddy vanzo ciao stefano facciamo così facciamo prima ciao stefano ciao a tutti grazie per l'invito anche a me e è un piacere per me essere con con voi bene allora eh formato un po' diverso questo quindi eh dobbiamo ehm concentrare i tempi eh per le domande allora chi parte di voi due a raccontarci un po' del facciamo partire teddy che eh la sua storia mi mi intriga un po' ecco allora argentino tifoso del del bocca e ovviamente i collegamenti fra bocca e genua li sappiamo e quindi si appassiona del genua sì sì la mia storia è un po' particolare eh prima di tutto scusa per il mio italiano che non è perfetto ma a me sembra perfetto eh meglio del mio spagnolo sicuro quindi la mia storia che è particolare perché prima di tutto il mio zio ha giocato calcio nell'anni 80 in Serie A in Torino eh nell'anno 82 e lui era il numero 10 dal Torino e lui ha giocato la Coppa dello Mondo anche sostituto di Maradona qui a a Spagna anche e anche io sono nato in Argentina io ero sono tifosi di del bocca e quando io ero 7 io 8 anni ho cominciato a sapere un po' della storia del bocca io ho saputo che che i creatori di bocca erano genovesi e per questo che bocca è il cienese intanto da da quelle tempo io ho cominciato a tifare per per il Genova e nell'anni 98 97 ma prima di me eh sì sì io sono un po' più vecchio ma era difficile prendere delle partite in queste queste tempo eh ricordo di vedere contro la Juventus contro l'Inter quando eh era in tv che era un po' difficile ma dopo quando eh ho cominciato l'internet di tutta questa cosa e eh l'ho seguito sempre come tutti i fine settimana me ne eh vedo delle partite di di Genova e chiaramente come dicevi nella scheda sei stato a vedere il Genova e l'hai visto più volte o solo in quell'occasione che hai citato? No la l'unica occasione fu la che ti ho detto con Empoli ma perché dopo io mi sono andato a vivere in Australia e dopo quando sono tornato qui a a Barcellona ha cominciato tutto questo con il covid prima sono stato in in la nord eh vedendo questa questa partita e dopo sempre ho voglia di tornare a vedere il Genova questo penso che la temporada prossima eh me ne andrò per un mese a a Recco a casa di Alessandro e sarò sarò in la nord come 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 buon genoano. Bene non ho citato nella eh leggendo la tua scheda il motivo del trasferimento che è chiaramente molto interessante nel senso e per a causa della situazione economica del tuo paese sei anni fa ti sei trasferito lì a Barcellona o eh no perché soprattutto io sono venuto in Europa a fare un giro una passeggiata di due mesi tre mesi e dopo me ne sono andato me sono andato a in Australia Sydney io ho vissuto in Sydney per tre anni quasi e dopo mi sono trasferito qui a Barcellona che sto lavorando qui in un'impresa e sono contenti qui con con questa cosa a Barcellona e tutti tutti gli anni tento di di andare a Recco nell'estate per per essere un po' a Geno anche. Tra l'altro a Recco eh c'è una squadra di rugby eh che ha avuto diversi giocatori argentini e anche un allenatore argentino io la seguivo perché avevo diversi colleghi eh che giocavano e anche il eh la mia dita è stata sponsor della squadra e quindi avevo conosciuto diversi ragazzi argentini prevalentemente rosarini però eh e quindi insomma e penso che ce ne ce ne siano ancora ecco quindi se vai a Recco oltre alla focaccia penso che tu possa trovare anche del del degli argentini. Parlando di argentini suo zio Patricio Hernandez. Patricio Hernandez sì. Ecco che ho controllato ho controllato la cosa però mi è venuto subito in mente infatti mi aspettavo che Gaggia me lo chiedesse secco così a. No te l'avrei chiesto sicuro perché era era totalmente nebbia stavo pensando al Torino ma non mi veniva proprio quel nome. Mi è venuto subito in mente non so come mai perché in quei anni il Torino ci bastonava probabilmente quindi mi è venuto in mente e ha giocato anche nell'ascoli ed era nella rosa dell'argentina nel 1982 con Menotti sfortunatamente un mondiale non proprio dei migliori per la. Ma lui puoi dire che ha giocato con Maradona anche ha condiviso il quarto nel mondiale eh questa è la storia buona anche. Ah era anche nella stanza con Maradona. La stanza con Maradona Sella, Bertoni, Campes non mi ricordo. Campes è 78 era sicuro. Credo ci fosse anche nell'82 forse con un ruolo con un ruolo minore Bertoni, Diaz. Cioè. Martilles sicuramente. Giocatori di un certo livello ecco. Poi vabbè essere nella stanza con Maradona ragazzi o anche allenarsi giocare. Ma anche due palleggi con Maradona. Eh ma infatti. Ovviamente ovviamente li faceva lui i palleggi. Tu li guardavi però vabbè. No no però era un giocatore che quando Maradona gliela passava non gli picchiava sul piede come certi nostri. No assolutamente. Passaggia a Napoli ecco. Ti ripasso la palla Stefano. Passiamo allora ad Alessandro. Non mi non mi torna diciamo la vostra amicizia è nata lì o vi conoscevate già prima? Eh la nostra amicizia è nata a Recco quando lui è venuto appunto a fare un giro per l'Europa e scappando tra virgolette dall'Argentina perché uno dei miei migliori amici era viveva a Lisbona con uno dei suoi migliori amici. Lui era in Francia no la trovava molto cara la Francia quindi scappò a Recco e lo andammo a prendere alla stazione e ce lo portammo in giro e da lì è nata la nostra amicizia. Poi siamo trasferiti a Roma insieme tipo sei anni fa ormai. Ah ecco ecco quindi siete e se non sbaglio Francesco tu hai vissuto la Recco giusto? Abbiamo Francesco bloccato. Mi pare di sì che nella nella sua scheda iniziale l'avesse. È così bella Recco che sei bloccato. Raccontaci allora un po' tu Alessandro. Praticamente io finisco l'università Genova che avevo fatto l'Erasmus in Spagna in un paesino che si chiama Soria e da lì mi ha pizzicato la zanzara del viaggio e mi trasferisco a Roma dove trovo un lavoretto all'ambasciata spagnola dove c'è un tempietto del dramante e lì faccio una amicizia con un ragazzo di Madrid. A fine dell'esperienza lui torna a casa e mi dice ma perché non mi vieni a trovare che ci sono delle feste di quartiere va il periodo per venire era estate. Io mi ricordo sono andato lì a Madrid con uno zaino e per caso in un bar abbiamo conosciuto della gente che cercavano un traduttore italiano e niente da lì mi sono trasferito a Madrid ormai quasi cinque anni fa e da lì poi sono passato un po' in giro a Siviglia e ora qua a Barcellona. Questo è il riassunto, il trailer della storia. Quindi sono sei anni giusto? Sei anni che sono sì in giro. Poi d'inverno noi andiamo ci piace andare in posti caldi quindi andiamo sempre ad altre latitudini. Ecco quindi siete molto molto nomadi da questo punto di vista. Torni spesso a Genova o a Riccardo? Sì 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 torno mi piace da quando sono andato via mi piace ancora di più quindi cerco di tornare almeno una volta ogni sei mesi cerco di tornare. Ecco Francesco dicevo prima forse non ci hai sentito che mi pare di ricordare che tu hai vissuto a Ricco giusto? Sì 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 sono cresciuto sono cresciuto a Ricco infatti fa piacere trovare un altro Ricchellino o Ricchese perché poi c'è sempre un po' il derby per come chiamarci mi fa piacere vederne un altro in giro per il mondo. Anche a me. Bene allora raccontateci un po'. Allora partiamo da una cosa e facciamo un po' di pubblicità a voi che avete iniziato un canale Twitch giusto? Sì l'abbiamo iniziato per a tempo perso guarda ci siamo detti perdiamo così tanto tempo guardando le partite perché noi ancora non ci siamo disillusi che avevano detto perché poi non facciamo una mezz'oretta così comica ed ironia commentando i fatti con un bicchiere di vino davanti e niente lo stiamo facendo sta andando abbastanza bene non abbiamo nessuna mira a trasformare in un lavoro ma ci vediamo settimanalmente ci sono degli invitati che di solito sono amici nostri che tifano per quella squadra no di solito cerchiamo di far coincidere con una partita importante quindi una finale una semifinale e parliamo un po' di tutto poi cerchiamo di parlare di temi extracalcistici anche diciamo perché non il tutto ovviamente rigorosamente spagnolo il tutto in spagnolo sì il canale si chiama la doppietta dell'umo quindi metà metà la doppietta del fu metà in metà del nome italiano metà spagnolo il vino è italiano spagnolo argentino il vino è quello che c'è qua che di solito è rioca quindi spagnolo è buono sì 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 ma è meglio l'italiano e l'argentino penso ma guarda meglio l'italiano e l'argentino beh gli spagnoli sono i vini rossi sono sono vini molto molto carichi bisognerebbe chiedere al nostro amico tobia magari da dalla scozia che lui lavora in un negozio di di vini quindi può consigliarci e sono molto molto corposi come vini però anche gli argentini e certi italiani sicuramente sì e si difendono veniamo quindi un attimo ai vostri ricordi tra l'altro volevo anticipare che alla fine dell'episodio se gli ascoltatori avranno la cortesia di restare collegati il sottoscritto leggerà un bellissimo racconto che ha fatto alessandro della sua prima esperienza allo stadio di quelle genua palermo del 2002 2003 e è un bellissimo racconto scritto qualche anno fa ma ancora con gli occhi del di quel bambino che per la prima volta andò allo stadio e noterete nel racconto che ci sono alcune inesattezze dovute proprio al fatto che la memoria era quella di un bambino quindi certi particolari sono 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 stati dimenticati 2002 2003 chiamiamo la nostra memoria storica stagione nella quale abbiamo perso due derby anzi tre forse sbaglio ma te c'è anche uno di coppa italia e poi siamo finiti in serie c guarda io con la stagione lì me la vorrei sono stagioni non lo so io guarda io sono un po sì mi chiamate il buelli però se mi riporti negli anni 90 mi ricordo le cose come fossero ieri mi ricordo ancora il gol nella mia prima partita il 13 settembre dell'81 ma quegli anni quegli anni di mezzo con dalla costo anche certi anni di preziosi tipo ad esempio un anno che adesso ce lo stanno menando che il genoa comprava le partite comprava le partite io sinceramente a parte quell'anno del gol di jankovic in campo neutro dopo il genoa siena eccola il il post genoa siena io sinceramente tutte queste partite comprate non me le ricordo e certi anni me li sono anche dimenticati proprio non so sarà la memoria sai vuoi dimenticare anche le cose brutte cerchi di ricordare sì 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 no era sicuramente una stagione eravamo in serie b ma una stagione con certe similitudini appunto dicevo due derby persi che se non ricordo male furono tre perché ricordo quelle che ce l'omenarono per quelle quel tris di derby erano i tempi di flacchi e di bazzani credo e noi alla fine andammo in serie c con l'ultima partita genoa cosenza e poi poi fumo ripescati con il primo dei grandi maneggi di preziosi e e la serie b a 24 quanto cazzo l'avevano messa sì ma quei tempi era un dio preziosi era ancora un dio lui si era si era unito al chi era gaucci che chiedeva sì 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 che aveva due squadre aveva catania non mi ricordo che squadra avesse che la voleva ricordare la formazione di quella sera e per rinfrescare anche i ricordi di alessandro era questo potentissimo starting eleven con barrasso chini giacchetta il fenomeno zvitanovic rossini mascara breda boys fair buza yen de francesco e mia alcea in panchina c'era luca ferro andrea basso feossi moscardi scantamburlo che qualcuno porta credo ancora la maglietta ingradinata nord mad b e niculesco in panchina c'era la coppia torrente la vezzini mi ricordavo per esempio caccia come attaccante che non hai menzionato quindi sono lì vedi che invece arrivò l'anno dopo caccia infatti c'è è appunto come dicevo sono i ricordi da da piccolo tu quell'anno lì avevi sette anni sette anni adesso difficile ricordarsi queste cose invece è la prima di di teddy è stato genoa empoli 1 a 1 2019 io non mi ricordo bene la partita 2019 è anche abbastanza recente secondo me era genoa cagliari cagliari che l'ha portato genoa cagliari cagliari abbiamo scritto con l'impoli avevamo vinto 2 a 1 e quel gol lì c'era stata la prima parte di campionato no no era cagliari 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 sì sì che abbiamo fatto col cricito su rigore rimonta che ha giocato il cuti giocava a genoa ah era stata la partita di fine anno quella che crescito segnò all'ultimo praticamente l'ultimo una roba simile al derby ma lì l'aveva segnato che ci fece gol pavoletti mi pare pavoletti sì che io ero al corteo dei di mia figlia che era nella scuola turca e bestemmiavo con tutti sti turchi guardavo non era una brutta formazione quella del 2019 2019 forse eravamo ancora qualche giocatore che sapeva giocare a calcio ce l'avevamo e invece sul giocatore preferito teddy sceglie rodrigo palazzo come mai palazzo non milito ma perché come tifosi del bocca noi abbiamo tanto calciatori che hanno giocato al genova come burdiso palazzo anche scusa ma lucas prato di tante tante otto otto ma per me palazzo lo che lui ha fatto a genova dopo di vincere la libertatore con il bocca in questa squadra che era richelmi palazzo era erano due due calciatori che per me era incredibile come come giocava questa questa squadra il bocca dopo lui è andato a genova e ha giocato tantissimo tantissimo anche penso che con palazzo se sia conosciuto un po di più il genova in argentina perché lui era in un stato di forma superiore e ha fatto di conoscere un po di più ai ragazzini di questa questi anni al genova perché in argentina è molto facile sapere dal milan dall'inter della juventus ma quando un calciatore argentino dal livello di palazzo vai a genova tanti ragazzini cominciano a vedere la squadra con altre con altre occhi salutiamo matteo che ci che ci lascia impegni familiari e ci rivediamo la settimana prossima ciao matte ciao a tutti avrei tantissime domande a fare ai due ragazzi a barcellora tra l'altro questo accento questo accento favoloso anche sai c'è anche l'accento di belene piacere pensavo ti riferissi all'accento recchellino io no no recchellino ecco le mie le mie trasferte a recco con mangiata di focaccia a formaggio sulle panchine sotto il il ponte della ferrovia e poi andare a vedere l'aporeco anche se in quegli anni aveva un presidente l'aporeco che era anche il mio datore di lavoro che non era proprio un genuano che era volto non lo menzioniamo era parodi era parodi presidente della io lavoravo per l'inter globa ma la proreco è sempre stata nel mio cuore anche negli anni diciamo non dei grandissimi successi però e mi piaceva una cosa bellissima andare a punta sant'anna andavo sempre con un mio amico e prima andavamo a mangiare la focaccia al formaggio dal panificio la compravamo ecco allora e abbiamo detto del giocatore preferito di teddy parliamo di invece il giocatore preferito di a poi per teddy avevo un'altra domanda e di alessandro diego perotti sì quindi rimaniamo sempre in tema e poi un certo mauro zecca che raccontaci un pochi chi è perché iniziamo da dal più facile da raccontare che è per otti che l'abbiamo visto tutti e a me piace perché piaceva ora purtroppo sulla via del tramonto però quando giocava da noi aveva quel potere di fermare il respiro dello stadio quando lui puntava l'uomo che si fermava prima che spostasse il pallone anche la stessa nord che canta sempre si fermava tratteneva il fiato perché si sapeva che qualcosa di bello stava per accadere ed è secondo me uno degli ultimi giocatori del nostro campionato che faceva qualche giocata fine a se stessa per il divertimento di farla non solo per il per il gol o per l'utilità della giocata quindi io sono un po' nostalgico di quel calcio lì quindi per quello a me è sempre piaciuto perotti diciamo che quando tu hai citato appunto l'uomo che salta il giocatore che salta all'uomo e a un certo punto l'immagine è andata in bianco e nero per me sono ormai anni e anni che non vediamo un giocatore del genere nonostante qualche d'uno abbia anche provato a dirci che stava acquistando i due esterni più forti di perotti e iago falche altro giocatore che quell'anno fece veramente meraviglie e tornando un attimo a teddy una domanda su milito una curiosità milito è sempre stato un giocatore rimasto un po' lontano dai riflettori quantomeno in europa perché quando lo comprò il il genua vabbè la prima volta arrivava dalla dall'argentina fece bene in serie b e poi successe quello che successe andò in spagna in spagna fece molto bene però di nuovo anche lì non è mai andato al real madrid non è mai andato al barcellona nessuna grande squadra tornò al genua fece di nuovo bene e lì a quel punto poi andò all'inter e da lì il triplette questo e quell'altro in argentina visto che anche in nazionale non mi risulta che prima dell'inter forse qualche presenza ma e ci fosse mai arrivato come era visto questo giocatore era stato perso di vista o no no in argentina lui è un grandissimo giocatore tutti il mondi pensa che un grande ma c'è la sfortuna di di cominciare al racing che per me è una squadra molto grande ma in argentina si tu comincia la tua carriera e nel bocca nel river è più facile essere con i riflettori va bene anche in queste tempo la nazionale aveva di calciatore bravissimi che erano i guain agüero messi erano crespo quando lui era era un po più vecchio già crespo ma lo che lui ha fatto è incredibile e penso che in argentina è un giocatore che tutti tutti tutte le squadre le piace milito perché un è un calciatore anche un uomo molto molto carino in argentina che tutte tutte le persone pensano che è bravi lui è bravo e dopo di che ha giocato nel genova lui è andato a fare il triplete dell'inter ha cominciato a essere degli grandi calciatori argentini fuori per sfortuna come ho detto nella nazionale questo tempo era i guain che altro capo cagnonieri come lui e lui ha giocato il mondiale di 2010 con maradona si non me lo ricordo male ma poco a dire il vero era era i guain anche palermo ha marcato in queste martin palermo ha marcato in questa coppa del mondo ma milito nella nazionale non c'è questa storia più bella ma nella storia di calcio in generale penso che è un grandissimo grandissimo calciatori anche ripeto che è un giocatore che tutte tutte le persone amano e in particolare noi a genova soprattutto in questo in questi periodi e ci piace ritornare a ricordare le sue prudenze un giocatore forse un po anche atipico per le sue caratteristiche non non era l'attaccante di forza non era il giocogliere sudamericano però è un po come un po come perotti era quel giocatore che sapevi che lui aveva quella finta a tornare sul sul destro che la fece anche nella finale di coppia di champions league una finta che sapevano tutti ma ci cascavano tutti era era veramente impressionante se si assimilia molto fisicamente a enzo francescoli un giocatore uruguagio anche come giocavo lui era più un regista forse francescoli che 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 un attaccante se francesco hai qualche domanda ma no si stavo ascoltando appunto condivido per quanto riguarda l'escorso di di milito aveva le sue giocate molto molto particolari e io comunque anche da amici anche che era in argentina non continuano a parlare molto molto bene se forse nel mondiale credo che non abbia avuto tanto spazio quando stava allenando maradona nonostante le giocate che faceva in italia non aveva ancora queste questa grande visualizzazione qua ma ieri come come argentini ci siamo ripresi guain con il fratello insomma vabbè la qualità ma la stessa però diciamo che anche qua si sta si sta tentando di riportare un tipo di calcio interessante siamo ancora molto lontani da lì però ovviamente però quella direzione domande domande bene insomma li li a barcellona abbiamo chiesto già anche gli altri amici che erano lì in spagna c'è un gruppo che si chiama grifoni barcellona vi è capitato di incontrare qualcuno e siamo ora in contatto con enrico che lavora fa con voi podcast però no non c'è capitato buona bella bella notizia così almeno sappiamo di vedere le partite l'anno prossimo quando iniziamo la stagione però no non c'è capitato ecco voi al momento la partita la guardate in casa per conto vostro sì in casa con amici di solito però sì sì no no altri genoani no perché non appunto enrico è il secondo genoano che conosco che conosco qua quindi non sapevo ce ne fossero altri e meno male che ce n'è scusa ti ho interrotto prima perché ci dovevi raccontare di mauro zecca ma mauro zecca allora mauro zecca è stato il mio primissimo allenatore di calcio colui che mi ha insegnato a giocare ma anche insegnato la genoanità cioè ci ha insegnato a vincere a godere delle vittorie ma che nella vita non si può sempre vincere soprattutto essendo genoani e bisogna saper perdere con autoironia per quello poi mi definisco un genoano ironico perché se non ci ridi su ci piangi quindi ci ha insegnato molto e lui poi ha giocato nel genoa lui negli anni agli anni 70 ha fatto tutta la trafila dei giovanili è arrivato alla squadra riserve e con poche presenze nella squadra principale e poi andato in giro per serie b serie c in prestito e da lì poi è una cosa interessante lui scelse la carriera lui era batterista anche no che calciatori che ora non esistono più batterista impiegato di banca e calciatore allo stesso tempo quindi è una persona interessante e niente per quello l'ho menzionato perché senza di lui probabilmente non sarei genoano bene e ma interessante perché effettivamente quando ho letto il nome detto qua ho di nuovo come ricordi del bambino che è sfuggito qualcosa che mi sono fatto inviare degli articoletti che gli hanno fatto su mercantile perché anche io ho detto cioè ogni tanto poi si quando una persona un po più anziana fa dei ricordi si trasforma quasi leggenda quindi se c'è qualcosa di se c'è un fondo di verità volentieri ne parlo volentieri e c'è effettivamente c'è perfetto e volevo parlare delle vostre simpatie per altre squadre un tema che abbiamo affrontato recentemente in un podcast con un amico da balta che praticamente ivano che salutiamo che simpatizza per una squadra in ogni parte del pianeta quindi io mi diverto poi ogni tanto anche un po tra virgolette a prenderlo in giro perché veramente tifa per squadre delle faroer norvegesi e voi avete citato tu hai citato il raio vajecano e invece e vabbè ovviamente oltre al bocca juniors teddy ha citato il seviglia quindi diciamo che barcellona proprio non la considerate nemmeno per sbaglio e diciamo che sì io il raio per ho vissuto più tempo a madrid avevo un amico appunto che era un tifoso del raio un bucanero si chiamano a proposito ivano da malta è simpatizzante anche del raio a vedi persona intelligente e praticamente è l'unica squadra secondo me in spagna qua nel nord centro nord della spagna che ha un una parvenza di movimento ultras nel senso dove non si va allo stadio per stare seduti perché qua è molto lo stadio molto più più calmo rispetto a come si vive in italia e niente ho visto ho avuto la fortuna il raio non sta molto in serie a quindi in liga quindi ho avuto la fortuna di beccare quei due tranni che facevano delle belle delle belle partite in liga e andavamo entravamo spesso anche gratis quindi a furia d'andare uno poi simpatizzano dei dei cori no quella famosa la vita pirata quando finiscono di giocare che anche i giocatori stessi lo cantano che in un mondo di del calcio così globalizzato noi genuani abbiamo la metà rosa che non parla neanche italiano mi sembra già sembra bello avere una squadra che sappia i cori dei propri tifosi e Siviglia invece Teddy? Siviglia io sono tifo per il Sevilla per Maradona perché lui ha giocato anche devo dire che quando Messi giocava qui anche Iniesta che è il mio giocatore preferito giocavano qui al Barca mi piaceva un po' il Barca di vederli ma in Siviglia per me i tifosi che si asimiliano un po' all'Argentina che delle ultra sono un po' come non è non è come la nord ma sono più caldi sono più caldi da qui a Barcellona io sono andato a vedere quattro partite qui al Camp Nou e si asimiliano a essere nel in un teatro come vedete se l'ha confermato anche Enrico se non è non è un'esperienza inolvidabile anche dopo ha giocato al Sevilla Eber Vanega che è uno dei il mio giocatore preferito della storia del Boca e dopo di lui e ho cominciato a a tifare forte forte per per il Sevilla anche la città è bellissima quindi segui il Sevilla sì sì allora facciamo così interrompiamo un attimo perché voi forse non sapete perché siete a Barcellona va bene noi siamo in America però a Genova è tempo di campagna elettorale allora anche noi abbiamo uno spot nostro elettorale e quindi volevamo mandarlo ci vediamo fra cinque secondi va bene eccoci tornati spero che vi troviate d'accordo con il nostro messaggio elettorale ci tenevamo a schierarci e dicevamo Sivilla Sivilla 777 cosa cosa ci sai dire da tifoso del Sivilla di questa proprietà che nelle Sivilla comunque ha una quota piccola però insomma diciamo che la loro esperienza calcistica parte da lì si è un po meglio da del genoa ma il servizio gara per per sei anni hanno consecutivi le a champions lee intanto e penso che qui i tifosi sono felice con la situazione del club ma penso che anche era meglio prima ma con queste questa cosa di calcio nuovo di come si dice nel multi proprietà è un po normale vedere questo ma la situazione è un po migliore che in italia penso secondo me la parte che è più facile no entrare in un club come civile e come detto te le quote sono più basse non hanno tutta la squadra si loro hanno una nazionariato non dico popolare ma comunque molto frammentato quindi credo che anche chi veramente comanda nel civile alla fine detenga tipo un 25 per cento quindi avere il 7 non è poi neanche che sei veramente l'ultimo non è non è il piccolo azionista del genoa poi leggevo che avevano avuto loro dei problemi no con la proprietà qua a Siviglia che li volevano fare quasi fuori tra virgolette sì diciamo che da quello che ho capito c'erano due correnti quella della proprietà attuale e quella del precedente proprietario che era quello ai quale si appoggiava il 777 e quindi c'è una guerra ovviamente poi ora non so come come sia come sia finita credo che sia finita che sono fermi lì nel senso loro avrebbero voluto acquisire la maggioranza ma da quello che si è capito insomma che il resto degli azionisti era abbastanza fermo per per tenere le cose come erano quindi però insomma i risultati mi pare che non non siano stati male ultimamente quindi stevan aveva a proposito dei giocatori argentini che hanno giocato al genoa in italia generale ma si è dimenticato un importantissimo lucas rimoldi la nostra ala della serie c che poi penso che sia finito a fare praticamente quello vestito da grifone che girava a marazzi a luigi ferraris la stagione successiva l'hai mai sentito l'hai mai seguito lui giocava a orso al racing forse era fatto ha giocato anche rimoldi sì 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 lo l'ho sentito ma non lo ricordava perché ho parlato di di giocatori che hanno giocato in serie ma penso che lui ha cominciato a cordova non me lo ricordo credo penso che era l'istituto che lui ha cominciato ma quando prima da genova e ha giocato al racing in argentina come milito io sinceramente non me lo ricordavo se devo essere sincero è divertente sapere che poi si sia riciclato potremmo anche citare claudio spinelli fra fra i giocatori che arriva arrivarono spinelli credo per fare un favore al procuratore che era lo stesso di non so forse di di ocampos non lo so e quindi poi la madamo al crotone beh giocatori argentini ne sono ne abbiamo visti passare tanti 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 zucculini zucculini voglio dire però qual è il tuo preferito milito ovviamente principe milito e palacio come anche dicevi te e sono sono due giocatori che diciamo che hanno dimostrato di essere dei dei giocatori argentini gli altri erano giocatori che avremmo probabilmente potuto trovare tranquillamente anche anche a tutti Romero è vero Romero a proposito Romero come sta giocando è al Tottenham giusto al Tottenham sta giocando bravissimo lui c'è un po' una situazione difficile con la lezione infortuni infortuni ma qui a in Argentina si parla molto che dopo di Samuel è il migliore defensa che si ha visto nella nazionale come come un progetto beh si vedeva era era quando era al genere ancora un giocatore che doveva essere plasmato e doveva imparare a a limitarsi nei cartellini però già a Bergamo eh devo dire che Gasperini aveva fatto un ottimo lavoro e assolutamente sì un difensore di 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 grande livello la cosa che mi fa impazzire dei degli argentini e come dicevo ne ho conosciuti parecchi di ragazzi argentini è che sanno tutto dei giocatori argentini in giro per il mondo cioè li seguono sanno dove giocano come stanno giocando io cioè io più che quelli del Genua cioè non so neanche i giocatori del Genua che sono in prestito che tra l'altro sarebbe anche da aprire una parentesi perché proprio in questi giorni girano liste di 80 e più eh presunti giocatori che rientreranno alla base ma vabbè eh non 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 lo so non li seguo e quindi eh invece loro è incredibile hanno questa è incredibile questa passione e che da una parte li capisco eh perché è poi la passione della della nazionale argentina e e da una parte dall'altra parte faccio fatica perché io non ho la stessa passione per la nazionale italiana quindi eh forse per quello però è una cosa che ho notato che come diceva lui eh ho iniziato a seguire il Siviglia per Maradona questo o per Banega e proprio iniziano a simpatizzare per certe squadre proprio eh per quel motivo lì quindi prendiamo degli argentini che così avremo ancora più tifosi in Argentina dove peraltro c'è un Genua Club Argentina e c'è un ragazzo eh che non mi ricordo non mi ricordo bene il nome che tutte le settimane fa un podcast eh in spagnolo e commenta chiedo scusa la partita del del Genua Francesco qualche domanda per per la nostra coppia di Barcellona? Beh direi insomma è una coppia interessante nel senso che comunque per quanto riguarda la 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 il simpatizzare appunto a seguire il il Genua aver trovato appunto anche Esteban conosciuto appunto a Recco tra l'altro Esteban poi ci dovrei spiegare separatamente che ci faceva a Recco in tutta Italia dove potevi capitare noi soltanto diciamo che noi a noi recchesi eh siamo forse gli unici a cui piace Recco e magari magari un po' lo lo eh lo critichiamo ma è il posto dove quando ogni volta che possiamo tornare è casa eh però da chi viene da fuori di solito fa lo skip a parte tipo va direttamente tipo da camoglio in poi di solito quindi è è un piacere sapere eh che comunque appunto c'è c'è anche ancora questo questo interesse a conoscere la nostra 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 città ehm no domani in particolare direi direi no è interessante appunto il il Twitch il canale che avete fatto che di cui stavate parlando prima e assolutamente cominceremo cominceremo a seguire grazie 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 una domanda per Alessandro sì se dovessi dare un voto da 1 a 10 sulla genuanità di eh Esteban eh per gli ascoltatori Esteban e Teddy sono la stessa persona io la chiamo una una volta se no pensa che abbiamo tre ospiti personalità diverse della stessa persona esatto e no e faccio guarda un esempio che descrive la genuanità gli do dieci perché ci sono delle volte che magari io quando appunto sto viaggiando in giro con altri fuso orari ma arriva un messaggio suo eh che dice gol eh crescito e io non per avere un possibilità della partita lui mi tiene senza chiedergli niente senza essere d'accordo ma arrivano aggiornamenti da parte sua o è immancabile quest'anno purtroppo era immancabile il messaggio del lunedì e nos vamos a la be cioè ci vediamo in Serie B quindi sì sì no no a dieci dieci genuano sono da dieci poi è venuto quando è venuto in nord ha imparato le canzoni si vede che ha fatto la scuola nelle nelle barras argentine perché è un tifoso rumoroso quindi fa bene fa bene un personaggio così a genere e beh no sono sono storie molto belle per quello che è tra l'altro ti facevo questa domanda perché comunque ci è già capitato sia a nel Genoa Club New York c'è un ragazzo che tra l'altro oggi sarà allo stadio per la prima volta a vedere il Genoa e Matt Matt Killen è nato a Kansas City ma è cresciuto poi a New York americano 100% ma che è diventato genuano e da qualche settimana insieme all'amico Fabrizio di Genoa Club Canada fa un podcast in inglese sul Genoa ospitando anche dei tifosi di altre squadre settimana scorsa c'era un tifoso del del Bologna chiedo scusa e quindi sono belle queste storie di di Genuani e diventati ecco perché poi insomma il nostro podcast si chiama Genuani si resta e proprio nella sigla parliamo appunto di questo del solito diatriba Genuani si nasce Genuani si diventa per noi l'importante che di Genuani si resta e però i casi come Esteban ci dimostrano anche che Genuani si diventa e quindi ci piacerebbe appunto con questo gruppo di Genuani si resta avere anche un po' questa missione di di creare nuovi Genuani in giro per in giro per il mondo Genuanizzare il mondo ora magari tutto no però insomma ci pare di capire che è una squadra che comunque per storia per sfighe insomma non lo so mettiamoci tutto quello che vogliamo e qualche simpatia l'attira e quindi e poi la gente che inizia a seguirla la segue veramente cioè non sono non sono simpatizzanti sono proprio tifosi sì 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 il caso il caso di Matt ma ce ne sono anche nel Genua Club UK c'è un ragazzo dalla Scozia di nuovo che anche lui oggi sarà allo stadio e gente che proprio oltre che tifosa della loro squadra magari scozzese come nel caso Matt essendo americano non ha segue un po' il soccer ma sono proprio tifosi del Genua questo a me fa immensamente piacere quindi parlando di Genua parliamo un po' di Genua parliamo un po' di attualità cosa volete che vi dica abbiamo provato ad evitarlo ma ci tocca e purtroppo è un'attualità che ci ci toccherà affrontare per speriamo per un anno non di più insomma sensazioni facciamo un po' un giro di sensazioni è chiaro la botta è stata forte anche se parlando con amici forse altre retrocessioni come quella di Firenze erano state anche più forti questa alla fine era abbastanza aspettata è vero che come si dice in tanti casi anche se ti prepari poi quando arriva è sempre una botta per voi che siete giovani e per tanti altri giovani e mi fa piacere sentire da amici genovesi che la gradinata nord ha sempre più giovani e quindi c'è un ricambio interessantissimo per molti di loro è la primissima esperienza di retrocessione come diceva il nostro ospite la settimana scorsa di Michele dalla Germania il cui figlio 20 anni vive in Olanda è genuanissimo prima esperienza di retrocessione va presa come un processo formativo ci sta anche quello ed è quello che forse in certa parte ci rende diversi da altre tifoserie il fatto comunque di essere passati attraverso questo tipo di esperienze che generalmente ci portano a essere ancora più attaccati ai nostri colori lascio la parola a voi chi vuole iniziare un po' di sensazioni su questa prima settimana iniziata ovviamente con lo sfotto allora essendo fuori dall'Italia gli sfottò arrivano meno nel senso se uno non apre i vari social quasi non li vede però io personalmente sono nato calcisticamente in Serie B con il Genoa e mi sono formato come dici te ci siamo formati tra Serie B e addirittura Serie C quindi è stata una bella botta perché poi una squadra come il Genoa uno dice sì andiamo male ma non ti aspetti mai di retrocedere sono quelle squadre un po' più blasonate anche se non siamo da alta classifica che dici succederà qualcosa compri qualcuno e ti salvi invece a sto giro si è verificato quindi amareggiati però vabbè dai se fossi lì penserei alla bellezza delle trasferte nei vari borghi che ti può regalare la Serie B mentre la Serie A non te le regala e per gli Ultras di Nuova Leva che come dite voi io sono stato a Genoa Lazio ultimamente quando ero tornato a Pasqua e ho notato che l'età media della Nord soprattutto Nord bassa si è abbassata di quasi dieci anni e c'era molto più entusiasmo nonostante la situazione quindi io credo che la Serie B possa anche alzare un po' il livello di questa nuova leva di tifosi che ti fai le ossa vai nei campi di provincia comunque anche in trasferta sei più numeroso quindi inizia a prendere proprio la bellezza di andare a tifare il Genoa fuori quindi ci può servire ci può servire è buono per me è stato triste è la prima volta qui in Europa che vedo il Genoa retrocedere ma dalla mia esperienza che dal calcio argentino io tifosi del Boca ho visto arrivare una squadra più grande retrocedendo a Serie B un anno e spero che per il Genoa sarà così che non credo ti sia dispiaciuto tantissimo no 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 e loro hanno tornato fortissimo penso che hanno vinto la Libertadores due volte dopo di di ritrocedere in 2011 intanto penso dico che può essere come intentando verlo di un lato positivo come coger forza per prendere forza per prendere forza e tornare più forte a Serie A anche con i tifosi più illusionati sì abbiamo toccato il fondo ora si dà una spinta e si torna subito no quello è un aspetto molto molto interessante mentre parlavate ci stavo pensando effettivamente a parte che c'è un avvicinamento spontaneo di tanti giovani ragazzi al Genoa e questo ripeto mi fa enormemente piacere io ho anche il caso di amici famiglia completamente juventina tre figli e già due su tre sono diventati genuani e magari in Serie B se riesci a fare come tutti auspichiamo un campionato di altissimo livello con il Genoa che va a vincere in trasferta e speriamo domina la stagione e magari riesce a tirare ancora più tifosi perché comunque allo stadio vai a vedere una squadra che vince e poi sappiamo che quei tifosi restano a differenza di tanti di altri club di altre tifoserie sappiamo che il Genuano resta e in più in Serie B forse una considerazione che facevo io oltre alle trasferte gastronomiche c'è anche il fatto che ci si scontra ancora con delle tifoserie vere abbiamo visto ieri nel spareggio play out una bellissima curva dei tifosi del Cosenza ma ci sono altri casi in Serie A ormai è diventato un po' come citavate voi modello Barcellona un po' un salotto e tifoserie vere non se ne vedono più tantissime Francesco tu come come va Miami qua l'ultima retrocessione che io ricordo ovviamente insomma sul campo è quella della stagione di cui stavamo parlando prima nell'ultima partita nella stagione del 2003 con Gena Cosenza dove anche lì abbiamo dimostrato nonostante non si sapesse ancora quale quale poteva essere il nostro destino a testa alta così come succederà oggi cantando tutti insieme pronti per affrontare la nuova la nuova questa nuova stagione è una stagione che sarà sicuramente dove noi saremo la squadra da battere definitivamente è una stagione difficile perché comunque la Serie B non è già lo sappiamo non è una posizione in cui è facile giocare servirà una squadra apposta per il tipo di gioco da impostare non è un gioco fino un gioco un gioco fisico ci vogliono degli attaccanti una squadra fondamentalmente operaia ma degli attaccanti di sfondamento che sappiano gestire appunto questo tipo di cambio in squadra poi tra l'altro vi giro anche una domanda a voi parentesi chi terreste tra l'altro in questa nuova in questa nuova sfida in Serie B della squadra attuale e per quanto riguarda la mia opinione sarà dura però ho fiducia che la società farà del suo meglio per rinforzarla e ci sono tante voci in giro raggiare allenatori eccetera aspettiamo e vediamo cosa succederà ecco partiamo allora dalla domanda di Francesco da dove ripartireste io sicuramente dal capitano spero per lui che rimanga e per noi anche perché comunque ormai a una certa età si può pensare di fare una cosa da Lucarelli col Parma che l'ha riportato in Serie A poi se ne avesse ancora da dare che rimanga volentieri perché io sinceramente un trasferimento un cambio di vita come voleva fare lui a 30 erotti anni con tutti i milioni che deve avere da parte costringere la tua famiglia o separare la tua famiglia per fare due anni in più e due milioni in più non ne vedo tanto il bisogno e poi tecnicamente ci servirebbe come il pane in Serie B uno come Cricito e Siriculo dopo è scontato che non rimarrà anche se è stato un bel portiere io ero scettico quando è arrivato e invece poi ha parato nel senso è stato un degno sostituto di Perino mi piacerebbe tenere Ostigard perché secondo me è un bel un bel prospetto e un difensore roccioso per la Serie B uno che se si dotare il calcio ha l'appunto attaccante di sfondamento navigato che chiedeva Francesco che sicuramente incontreremo in Serie B glielo dà e dei nuovi a me poi piace Efty ma vedo difficile che un giocatore passi da giocare la Champions League a dicembre a venire in Serie B anche se il progetto lo possa convincere o meno e poi destro lo terrei io per esempio a me piace e non ho capito tanto la gestione che ha fatto anche Blessing di destro se devo essere sincero una delle poche cose che imputo a Blessing è questa anche con Krish anche sì magari Krish ti ha avuto qualche problema più fisico però sì non so te terresti qualcun altro di quelli no no penso che un buon portieri un buon portieri sì rimanca Sirigu sarebbe buono ma penso che non giocherà lui la Serie B e dopo Ostigard mi piace tantissimo come il prospetto interessante può essere buono per lui giocare un anno di più bene in Genoa Krishito per me deve rimare perché penso che noi diciamo la faccia della squadra come il rostro intanto destro mi piace anche ma penso che è difficile di di che lui rimanca rimanca a Genoa ma penso che Krishito e Ostigard sono i giocatori che io volevo vedere la temporada prossima vi volevo chiedere a voi invece girare la domanda allenatore che ora è calda come domanda terreste Blessing se parlate di Gasperini che secondo me è un miraggio o prendereste magari un attaccante un allenatore più navigato che conosce meglio la B ma parto io se non si potesse arrivare a Gasperini come credo che non sia possibile perché mi stupirei del contrario io penso che continuerei con Blessing ha fatto degli errori però tutto sommato ha preso è stato catapultato in una realtà calcistica che non conosceva ha saputo ridare entusiasmo è una sorta di gioco e comunque un pressing a un gruppo di giocatori che fino a cinque giorni prima erano considerati dei morti che camminavano e ripeto ha fatto degli errori però ho l'impressione che a causa delle caratteristiche della nostra rosa noi non siamo ancora riusciti a vedere il gioco che vorrebbe fare lui gli input qualche errore nella costruzione del gioco offensivo nel senso che onestamente non ho visto del gran gioco offensivo ho visto molta improvvisazione là davanti lasciata nei piedi di giocatori molto mediocri però ripeto mancavano anche le caratteristiche di alcuni giocatori se lui è uno di quelli che gioca con una punta centrale fisica è venuto meno piccoli perché poi alla fine non ha mai giocato giocatore per il quale io non stravedo destro non ha quelle caratteristiche lì l'errore allora forse potrebbe essere stato fatto a gennaio che se a lui serviva un certo tipo di attaccante e insistere su destro non aveva nessun senso poi destro sicuramente è stato gestito male si è gestito male la questione rinnovo probabilmente ha avuto il suo peso tant'è vero che il destro che abbiamo visto dalla diciamo dalla partita di Sassuolo in poi dove ha segnato l'ultimo gol è un giocatore impresentabile che non è servito assolutamente a niente e quindi assolutamente penso che resterai su Blessing qualche dubbio in più potrei averlo sul il direttore sportivo non perché non creda alle capacità di Sports ma perché credo che la Serie B richieda un tipo di direttore sportivo un po' più scafato nell'esperienza della della categoria inferiore e che lo possa anche aiutare a sistemare una parte di quei 80 giocatori che abbiamo oggi a Libro Paga quindi terrei Sports soprattutto nella parte Scouting in giro per l'Europa però darei un occhio e starei molto attento al fatto che comunque dobbiamo fare i conti con una categoria diversa dove servono dei giocatori particolari e giustamente come è stato detto anche in conferenza stampa ieri serve un mix di esperienza e di freschezza atletica e bisogna essere bravi a a costruirlo ripeto non ho dubbi che Sports sia bravo però anche lui catapultato in una situazione del genere e forse con i pieni poteri ha toppato qualcosa questo è quello che credo io Francesco per quanto riguarda Sports mi rattacco all'ultima tua di Stefano penso che in effetti c'è stata tra virgolette una mancanza di attenzione nel completare il mercato a gennaio ha avuto l'opportunità di poter dare una squadra completa e le potenzialità e il supporto della società c'era e non non c'è riuscito non ha capito esattamente quale fosse il potenziale offensivo della squadra e questo è un grave errore perché comunque nel senso ora ci sono gli strumenti per capire che squadra hai tra video feedback commenti eccetera quindi avere anche un'idea di che cambi bisognava fare si è pensato di poter dare ancora la fiducia a Destro ma evidentemente il Destro non lo sapeva quindi a sto punto siamo andati avanti un po' persi così l'allenatore io otterrei la copiata Blessing Sports insieme nel senso che comunque hanno dato l'impressione di in questi ultimi mesi dopo il calcio mercato eccetera di diciamo di essere di completarsi un po' uno con l'altro per quanto riguarda l'organizzazione della squadra di per sé e potrebbe portare dei benefici se dovessimo cambiare uno dei due io penso che a questo punto Blessing con DS Italiano non so quanto potrebbe andare avanti e viceversa Sports con un Gasperini potrebbe bordarsi delle cornate nel giro di due mesi io se dovesse esserci un cambio io punterai su un Gasperini sulla panchina ovviamente sperando che è un DS di peso come si parla ultimamente giuntoli da Napoli potrebbe essere in prospettiva non solo per la Serie B di per sé ma sarebbe appunto un segnale per far capire ci giocheremo alla Serie B per poi andare in Serie A e fare una Serie A importante o comunque non di basso livello come abbiamo visto negli ultimi anni se questo non dovesse succedere come stavo dicendo diamo fiducia alla coppia Sports Blessing avendo disponibilità di partire da zero e vedere cosa possono fare giocatori Terrei Ostigar sono d'accordo con voi difensore roccioso importante in difesa in Serie B ci serve gente così Efti onestamente io lo terrei ha dimostrato la qualità dal primo giorno lo stesso Friend Group che ha comunque della possibilità di si vede che comunque può crescere ancora è giovane è stato messo anche in tanti ruoli differenti da Blessing quindi anche quello ha fatto capire anche allo stesso mister come doverlo gestire davanti non saprei davanti ovviamente immagino che terremo Yeboah io Yeboah lo terrei perché comunque è anche un altro giocatore che deve maturare e secondo me può servirgli per fare quello switch insomma per poter veramente dare un altro tipo di approccio e peso alla partita gli altri onestamente non saprei insomma e Kuban era già su piedi di partenza a gennaio e Destro ha fatto metà il resto della stagione come diceva Stefano completamente in un altro mondo quindi potergli dare un'altra possibilità non saprei lui ha avuto la possibilità di veramente spingere ed aiutare la squadra non c'è stato può essere anche comunque la responsabilità sia della società per vedere il nuovo come stavamo menzionando eccetera però nel senso no onestamente Destro non me lo terrei non me lo terrei non eserlo fare andare via si puntere su qualcosa di nuovo differente serve serve aria aria pesca serve vedere una squadra nuova differente dinamica e rocciosa operaia come dicevo prima Alessandro e Steban voi allenatore come la vedete io sono d'accordo sono d'accordo con entrambi di voi due cioè se non si può ripartire da un allenatore e un DS di peso giunto lì non avevo sentito niente ma sia un gran nome non è interessante terrei i glassing cioè proverei a portare avanti il progetto che abbiamo iniziato e bisognerebbe vedere esatto sarebbe interessante vedere che che idea ha lui di di gioco perché come dite voi offensivamente io quando quest'anno si attaccava mi sembrava che superati 60-70 metri di campo fossimo andassimo a casaccio che magari prima succedeva ma se la palla la pulivano i piedi di Pandef qualcosa poteva succedere mentre da quando ti manca un giocatore di qualità un regista offensivo così non succedeva niente era proprio andavamo avanti di rimpalli nella tre quarti offensiva quindi se giochi così potrebbe essere utile una punta tipo giurici quella è la serenitana che è un bestione metti la palla addosso e la tiene in qualsiasi modo la tiene si va tutti su con lui che magari era il gioco che si aspettava e se no Gasperini è un sogno secondo me sembra strano che dopo questi anni in che lui a giocare la Champions faccia questo gesto d'amore verso di noi e scenda di nuovo in Serie B però sarebbe bellissimo ma a me mi piace Blessing penso che lui deve cominciare la temporada la prestagione deve fare e cominciare con una squadra che lui va a lavorare dal giorno uno penso che sarà diverso lui ha ricevuto una squadra che lui non ha creato non ha deciso dei giocatori lui ha trovato provato la forma di giocare è difficile ma se tu vedi da quando Blessing è arrivato fino a adesso i ponti non sono male abbiamo fatto di partite interessanti penso che dobbiamo vincere qualcun l'altra partita come la Salernitana per esempio anche per me è molto importante chi lui comincia la prestagione con i giocatori che lui ha voglia di avere dopo vedremo anche sarebbe buonissimo questo di Gasperini ma penso che a Genova non gli ha fatto bene questa cosa di cambiare allenatore dopo due messe tre messe dobbiamo essere un po' paziente e l'allenatore c'è il tempo per lavorare e dopo i risultati saranno positivi penso bene prima di passare i saluti avevo una domanda per Esteban volevo sapere se lui è d'accordo con me che il Brasile è il favorito per la prossima Coppa del mondo e se non è d'accordo secondo lui chi potrebbe essere la favorita ascolta settimana prossima me ne vado a Wembley a vedere la finalissima Italia-Argentina ah è vero sì sarò a Wembley no penso che la la principale candidata è la Francia per me è fortissima anche per me e penso che la squadra di Francia è un livello superiore anche Brasile c'è una buona squadra ma noi abbiamo questa è la prima volta dal 2002 che Argentina non vai alla Coppa del mondo come candidata intanto saremo di là senza pressione e penso che Brasile c'è la pressione per avere di tanti giocatori bene e la pressione è che Argentina ha vinto la Coppa America nel Maracanà intanto noi se non vinciamo a Brasile noi avremmo della scusa di dirle ma noi vinciamo al Maracanà e alla Coppa America ma penso che la Francia e dopo viene il Brasile anche a me mi piace la Ingliterra un po' piena di giorni per dirla all'Argentina la Francia è favorita però l'Argentina è la squadra più forte del mondo no 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 gli argentini sono sempre così non passa giorno che non me lo ricordo la più forte del mondo mondiale perché noi abbiamo la raiz italiana per questo noi ultimamente la cresta sulla nazionale l'alziamo poco a parte agli europei ma comunque allora ragazzi dimmi secondo me la Francia la rosa non solo i titolari le riserve della Francia potrebbero arrivare a un quarto di mondiale tranquillamente il terzo portiere è Magnan del Milan se la guardi è impressionante quindi un vivaio che negli ultimi anni si che continuano a sfornare quindi per me sono ancora i favoriti poi speriamo vinca il Brasile dai che anche mi farebbe piacere che vinca il Brasile ma io lo facevo solo per stuzzicare un po' le scatole a un argentino a toccare un tasto un tasto dolente ma la rivalità con Brasile da solo fu per il calcio noi amiamo amiamo i brasiliani a dire il vero ce ne stiamo di questa tua dichiarazione abbiamo un amico brasiliano e chiederemo a lui se i Brasile amano gli argentini a parte questo ragazzi vi ringrazio tantissimo è stata un'oretta meravigliosa con voi e spero di sentirvi molto presto e settimana prossima restiamo in Europa andiamo a trovare un amico in Austria un buon weekend è già uscita la formazione andatevela a vedere buon Genua forza e coraggio a tutti fate pure voi il giro dei saluti e buon fine settimana a tutti grazie ragazzi grazie fra ste e anche Matte complimenti per il programma è bello interessante sentirvi e scoprire anche appunto cose calcistiche culturali di tutto il mondo raccontate da gente che senti vicina quindi grazie per l'invito e sì sì ci sentiamo presto e proviamo quando ci stabilizzeremo meglio invitarvi noi al nostro canale Twitch quando andranno meglio quando lo avremo già messo tutto a posto ci sentiamo sarà così grazie ragazzi il mio piacere è anche grazie per l'invito e sempre forza Genoa buon weekend ciao Stefano e grazie mille Alessandro e Stefano per aver partecipato al posto di oggi è stata una grandissima puntata ed è anche un piacere trovare anche un un richiese in giro per il mondo come dicevo cosa molto rara un piacere grazie ragazzi e forza Genoa forza Genoa ciao forza Genoa ciao ciao grazie la mia prima volta di Alessandro Lorenzotti in momenti così dopo più di vent'anni i ricordi si mischiano alle speranze alle illusioni e all'immaginazione l'unico dettaglio per cui metterai la mano sul fuoco è che era sera e faceva fresco ma non troppo il papà di Simo ci venne a prendere sotto casa con una panda scassata color grigio topo ed anima prudente nella mente di un bimbo quel viaggio dura due secondi tra i veicoli che sfrecciano con le luci accese e le radio che gracchiano come un buon genovese Marco parcheggiò a chilometri da dove eravamo diretti nascose tutti i colori della macchina sotto teri grigi e ci iniziò a raccontare storie di avventure calcistiche che all'udito di un adulto sembrerebbero poco verosimili non per noi non allora una volta vicini ci disse di farci piccoli per entrare gratis e di nascondere dei tappi di plastica nelle calze una volta dentro saremmo stati premiati da lì partono il caos la calca il rumore la gente le esplosioni le grida e gli occhi sgranati superati i botteghini arancioni e decorati da graffiti poco garbati ecco il premio Marco compra per me mio fratello Matteo e Simone tre magliette false e bellissime con grande cinismo ci raccomanda in zeneise di sceglierle senza noni tanto i giocatori vanno tutti via appena ti seducono ovviamente da lì il fresco diventa un dettaglio via la giacca e sulla maglietta siamo pronti iniziamo a salire le scale un gradino alla volta sospinti dalla marea di gente che abbiamo dietro davanti e ai lati il rumore aumenta luci abbaglianti iniziano a sbirciare tra uno scalino e l'altro e infine eccoci Marassi rugisce sebbene le squadre si stiano solo riscaldando l'ora che precede la partita vola noi bambini siamo persi in tutti quei nuovi dettagli mentre Marco legge il gazzettino in omaggio gradinate scoscese centinaia di sedili blu tamburi che tuonano a ritmo palloni che volano senza mai avvicinarsi a noi credo di ricordare che mangiamo dei panini e bevemmo della coca cola sgasata ricordate i tappi nei calzini più un gesto di ribellione che altro a poco meno di un quarto d'ora dal fischio d'inizio alla nostra sinistra a nord inizia la bolle migliaia di mani appartenenti a sconosciuti si muovono insieme come guidati da un dio profano e ben semiato il battito delle ripercussioni ci trascina fino alla lettura delle distinte due minuti di fischi assordanti seguiti dal tripulio quella sera giochiamo contro il Palermo con la sua classica divisa rosa e non ce la passiamo bene la serie C è a un passo ci familiarizziamo subito con i canti della Maria Rosso-Blu la partita scorre a fine primo tempo scendiamo ad anusare il prato imperfettamente meraviglioso ma non facciamo in tempo a tornare ai nostri posti che il Palermo va avanti 0 a 1 il rumore non vuole diminuire e ad un tratto un fischio deciso interrompe la partita punizione per noi la pausa che precede il tiro è carica di tensione elettrica qualcosa di buono potrebbe accadere quei 90 secondi durano più di tutto il resto della partita alla fine manca appena un pugno di minuti ricordo ancora come luccicava la pelata del portiere palermitano neanche fosse un bersaglio da colpire nella mia memoria Mauro Bressan si incaricò della punizione ma non posso scommetterci posata la palla sul prato prese una lunga rincorsa senza contare i passi visto che al tempo non era di moda la ricorsa è decisa ma sghimbescia l'impatto non è migliore la palla naviga tranquilla verso le braccia ansiose del portiere avversario quando ad un tratto a meno di un metro dalla linea del portiere un pipistrello attraversa la traiettoria del pallone distraendo l'estremo difensore e facendolo incappare nella peggiore delle papere uno a uno palla al centro da lì alla fine non abbiamo neanche più guardato il campo la nord era troppo bella ripensando da adulto a quella sera trovo che non ci sia miglior modo per essere introdotti all'entropia calcistica che rappresenta il Genoa tutto accadde per caso giusto o sbagliato che sia fino a quel momento se mi avessero chiesto per chi ti favo avrei risposto Fiorentina o Bovovieri quella sera cambiò tutto da quel momento non ho incontrato Dio la providenza Allah eccetera in nessun'altra forma se non quella di un pipistrello sbadato quella notte andiamo a dormire indossando la nostra nuova maglia che mi accompagna ancora oggi così come la passione per il vecchio valorno avete ascoltato? Genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana grazie per la prossima settimana grazie per la prossima settimana